Perché c'è stato subito in tenda con il Presidente e soprattutto ho trovato la fiducia da parte sua e da parte dei ganatori in una squadra che è stata fatta per arrivare a degli pittiri importanti. Quindi il progetto era sicuramente bello e serio e quindi siamo qui perché vogliamo dare tutto e arrivare fino a qui. Bene, grazie Mirko che poi è a vostra disposizione per le domande che vorreste fare. Do la parola a Ianno perché sicuramente è la cerniera di questo evento e per sentirti dire che anche lui spera molto nelle soddisfazioni dell'equito.